Buonasera a tutti amici nerazzurri e amici in generale di YouTube. Allora oggi video abbastanza serio perché ieri giorno di celebrazione per tutti noi, per il popolo nerazzurro, per il ricordo del 22 maggio 2010, la notte di Madrid dove diventammo campioni d'Europa e siamo diventati la prima squadra italiana a fare il triplet e ieri ci ha salutato, ci ha lasciato un grande allenatore della storia dell'Inter, un grande tifoso, rimasto tifoso della nostra squadra, è rimasto interista, una persona sempre a modo, una persona mai fuori le righe, l'allenatore che non potrò mai dimenticare perché essendo io dell'87 ho cominciato a seguire essere tifoso dal 96, quindi lui è il primo allenatore con cui ho visto vincere e trionfare. L'Inter, stiamo parlando dell'annata 97-98, l'allenatore che ci ha lasciato è Gigi Simoni, una persona a cui anche dopo io sono rimasto sempre legato perché avevo i ricordi di quella bellissima annata, avevo i ricordi della Coppa UEFA, di tutto il cammino, di quella Coppa UEFA fino alla finale al Parco dei Principi di Parigi, finale vinta meritatissimamente per 3-0 contro la Lazio. L'Inter di Ronaldo, l'Inter di Moriero, l'Inter di Giorcaef, l'Inter di Paiuca, l'Inter di Colonnese, ce n'erano tanti giocatori a cui siamo rimasti tutti noi affezionati e in questa squadra uno a cui eravamo più legati, a cui rimarremo più legati è proprio Mr. Simoni. Mr. Simoni che di noi ha sempre parlato bene, ha sempre detto che è stata la sua migliore avventura, che all'Inter si è trovato benissimo, che l'Inter è stata la squadra più facile da gestire, che è stato per lui un onore poter allenare il fenomeno, Ronaldo, Ronaldo che ha dimostrato parole d'affetto nei confronti di Mr. Simoni. Quell'annata è stata meravigliosa, abbiamo vinto sì la Coppa UEFA, ma era l'annata in cui avremmo meritato di vincere lo scudetto. Quindi un allenatore che secondo me quell'anno si è giocato non per colpa sua il resto della carriera, perché quell'anno meritava lui, meritava la squadra, meritavamo noi tifosi di festeggiare insieme alla Coppa UEFA il traguardo dello scudetto. Scudetto che ci è stato negato, scudetto che ci è stato rubato, scudetto che ci è stato tolto dai gobbi. Da lì nasce il mio odio verso la Juventus, perché quello è odio. Hanno tolto la gioia tutti noi di festeggiare con un furto, poi è venuta infatti fuori Calciopoli e via dicendo. Simoni disse, lui ha sempre pensato che la colpa fosse dell'arbitro, un po' troppo eccentrico, un po' troppo arrogante, e poi si è scoperto tutto grazie a Calciopoli. Ricordiamo tutti benissimo, l'abbiamo tutti davanti agli occhi, il rigore non dato a Ronaldo, e il rigore poi dato a Del Piero, come è finita quella partita, e lui in tutto lo schifo, lo stadio che si è raccorto di tutto, tutti veramente incazzati, è stato espulso per aver detto all'arbitro, si vergogni, si vergogni, sempre in maniera signorile, sempre da galantuomo, anche da incazzato come una bestia, perché si stava vedendo rubare uno scudetto, un trofeo sotto il naso. Le uniche parole più aggressive che ha detto sono state, si vergogni, nei confronti di una persona indegna, di una persona senza dignità, senza palle, di un venduto di merda, di un arbitro che rappresentava una classe arbitrale vergognosa, schiava della Juve, dei gobbacci di merda, che debbano fallire di nuovo, e che hanno rovinato una stagione meravigliosa. L'anno dopo poi Simoni fu esonerato, ancora oggi Moratti si rimprovera per quell'errore, anche perché quell'anno poi abbiamo fatto giustamente schifo, perché l'anno che tu vai benissimo, che meriti di vincere, ti vengono tranciate le gambe, l'anno dopo non ci sono energie, non c'è voglia, non c'è impegno, non c'è scazzo, perché tanto sai che come va va a te, cercheranno sempre di metterti bastoni fra le ruote. E questa è stata la piccola ma concentrata parentesi di Gigi Simoni come allenatore dell'Inter, come allenatore dell'Inter vinse anche la panchina d'oro, per farvi capire che quell'anno lo scudetto lo dovevamo vincere noi. Quindi ragazzi, niente, io penso che come me nessuno di voi lo dimenticherà mai, rientra sempre fra i miei allenatori preferiti che ho visto all'Inter insieme a Giuseppe Murigno, lui e Murigno per ora sono quelli a cui io sono più affezionato, a cui sono più attaccato, e purtroppo ieri ci ha lasciato. Il sito dell'Inter diceva che non ci ha lasciato in una data a caso, ci ha lasciato il 22 maggio, in un giorno importantissimo per l'Inter, ci sarà anche la sua memoria. Quindi ragazzi, con l'ultimo saluto al grande allenatore, al grande uomo Gigi Simoni, io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, spero che anche voi sentiate la mancanza e che vi sia dispiaciuto, e che anche voi siete rimasti attaccati a questo grandissimo uomo e allenatore nero-azzurro. Ragazzi, io vi saluto, nel bene e nel male sempre amala. Ragazzi, io vi saluto,